Gli occhi della Procura Federale sono concentrati sul terzo gol della sfida tra Perugia e Benevento. L'ipotesi del Procuratore Federale Giuseppe Chinè è quella di illecito sportivo. È stato già acquisito il video della partita e nei prossimi giorni saranno ascoltati i tesserati coinvolti nell'episodio. Il gol realizzato da Cristiano Cowan al quarto minuto di recupero del secondo tempo è valse 3-2 per la formazione Umbra. Una rete che se fosse maturato un risultato diverso in Palermo-Brescia avrebbe evitato la retrocessione diretta in Serie C. Ma le cose non sono andate per il verso giusto perché la formazione siciliana non ha battuto la squadra lombarda condannando in ugual modo la retrocessione il Perugia. Perché però la Procura si focalizza su questa rete? Cosa è successo da far aprire un'inchiesta per illecito sportivo? Al novantesimo il Perugia era in vantaggio per 2-1. Il Benevento pareggia i conti il primo minuto di recupero grazie a Gol di Ciano. Una rete inutile in quanto il Benevento era già retrocesso e non avrebbe migliorato la sua posizione in classifica in nessun modo. Fin qui tutto normale ma dopo qualche minuto un clamoroso errore di Maxime Leverb regale il pallone agli avversari. Sulla sfera si fionda il centrocampista del Perugia Q1 che calcia verso una porta sostanzialmente sguarnita e sigla il definitivo 3-2 che in ogni caso non salverà il club Umbro perché il Brescia pareggia 2-2 a Palermo e chiude con un punto più in classifica.